Salve a tutti, benvenuti, bentornati nel canale, sono qui con il mio Mini 4 Pro, ho appena scaricato i file sul mio MacBook, file registrati l'altra volta, non ho fatto un video ma sono andato a farmi un voletto per piacere, per vedere un po' come va questa nuova applicazione, perché se ve lo siete persi avevo fatto un video in montagna e avevo riscontrato tanti lag, non solo ma tanti amici che hanno dispositivi Android hanno avuto problemi, cioè l'applicazione non partiva, schermata nera e ho fatto anche fare un video al mio amico Simone, io ho passato il file che DJI ha diffuso sui forum ufficiali per tentare di risolvere il problema, è sempre la stessa versione, la DJI Fly, però una build successiva e qualcuno per fortuna ha risolto. Comunque non voglio dilungarmi troppo, trovate un sacco di video al riguardo sia nel mio canale e trovate il video sul canale Biganet. L'altro giorno sono stato a volare con lui, dove vado spesso, e ho voluto riprovarlo un po', vedere un po' per meglio se tante le volte, come avevo detto nel video che avevo fatto, era, diciamo, questo problema dovuto agli impuntamenti, a questi lag, a un non perfetto streaming video, era difeso dal fatto che era piovuto, quindi sappiamo in montagna ci sono tante piante, quindi tanta vegetazione, tanta acqua, tutta questa vegetazione piena d'acqua magari poteva creare delle interferenze notevoli al drone e al sistema di trasmissione, così ho deciso di riprovare una giornata top, diciamo, perché c'era il sole, asciutto, posto dove vado sempre a volare e vediamo insieme adesso cosa ne esce fuori, faremo anche un po' di considerazioni. Beh, una breve spoiler, non è che sono rimasto soddisfatto, tutt'altro, questa versione dell'applicazione non mi fa impazzire, cioè veramente, ragazzi, siamo a dei livelli bassi, veramente bassi, perché non lo so, perché hanno fatto questo aggiornamento non per apportare qualcosa di nuovo, ma semplicemente per andare a risolvere problemi come spesso accade. Però non so quali siano stati i problemi, ma il problema l'hanno creato, perché prima funzionava bene e adesso, ora lo vediamo, vediamo un po' come va. Spero nel vedere le riprese video di ritredermi, ma quando ero a, diciamo, a volare con il drone, con il radiomando in mano, beh, sinceramente, dicevo che ero un po' deluso, ecco, c'era qualcosa che non andava. DJI sta facendo aggiornamenti su aggiornamenti, ma non porta mai niente di nuovo. Voglio aprire una parentesi e voglio anche collegarmi al nuovo drone che uscirà mercoledì, giovedì, giovedì 5 settembre, il nuovo DJI Neo. Un drone che è la copia dell'Over Air X1, concedetemi il termine, non sarà una copia, però sicuramente DJI si è ispirata all'Over Air X1. Tant'è vero che anche sulla parte superiore hanno riproposto il display con le vocine cinesi che ti dicono appunto quello che farà il drone. Chi l'ho approvato, breve piccolissimo spoiler, dice che non è assolutamente paragonabile a Over Air X1, che sono proprio una spanna più avanti rispetto a DJI per quanto riguarda questo tipo di impiego, l'impiego di programmare il drone e farlo volare senza radiocomando. Non so, ecco, se DJI comunque avranno anche loro previsto una funzione Dolly Track, che è la principale che noi tutti content creator usiamo. Speriamo che ci sia anche il Dolly Track, però voglio ricollegarmi a quello che stavo dicendo prima. Perché? Perché mentre Over, quando se ne esce con un aggiornamento, molto spesso ci porta una funzione nuova e quindi l'ultimo aggiornamento mi ha portato la funzione Lateral, mi ha portato un'altra funzione nuova, ci sono già un sacco di funzioni all'interno delle applicazioni, vengono sviluppate e vengono sempre aggiunte. DJI cosa ci porta con gli aggiornamenti? No, non ci porta niente di nuovo. Ci porta quando va bene la risoluzione di un problema, però loro vogliono per ogni piccolo segmento dargli quel pochino di funzioni giusto per vendere quel prodotto. E questo sinceramente fa incavolare tanti noi utenti, perché magari tutte queste differenze non avrebbero senso di esserci. Ho un Mini 2, sono costretto a comprare... scusa, ho un Mini 4K, sono costretto a comprarmi un Mini 3 per avere qualcosina in più. compro il Mini 3, però se voglio quel qualcosina in più devo prendere il Mini 4 Pro. Ma che senso ha? Ho il Mini 4 Pro, ma non ho le luci attive di notte. Se le voglio attivare devo prendere l'Air 3. Sì, te le fanno attivare se lo sblocchi in C1, però poi chi non ha il patentino, chi vuol volare in Open, poi non ci può più volare. Quindi, capite che è un gatto che si morde la coda e questa cosa fa incavolare tanti utenti, me compreso di questi droni. DJI che volano bene, sì, però non è che c'è solo DJI, per fortuna c'è anche Over, Air e quindi vedremo anche nuovi droni che usciranno sempre della Over e speriamo effettivamente che siano droni interessanti. Ora, dopo questa mega introduzione, andiamo a vederci questa registrazione che ho fatto e la commentiamo insieme. Faccio prima partire la registrazione del video, quindi registrazione schermo, ok, e andiamo a vederci questa ripresa che mi sono fatto. Anzi, no, è una registrazione dello schermo del dispositivo. Sto andando dritto, giornata di sole, zona dove non c'è nessuna interferenza, vedete pochi edifici, una zona artigianale, ecco, una zona non urbana. E voglio vedere in questo caso se il drone punta nella direzione giusta, vola dritto, ma per questo diciamo che DJI ha risolto, almeno su questi nuovi droni qua, sul Mini 2 no, ma neanche sul Mini 4K, ovviamente non va proprio dritto, però su questi droni qua si hanno risolto, infatti perfetto, tiene la rotta perfettamente. Adesso lo giro, lo giro e vado a farmi una ripresa in un'altra direzione. Voglio mandarlo anche un po' avanti perché, guardate ragazzi, non sono distante dal radiocomando, però guardate questi frizz che si vedono chiaramente, alzo un lag, abbasso un altro lag, vedete, lag di continuo, io ero correttamente orientato verso il drone, però niente da fare, niente da fare anche in una giornata perfetta dove non c'è nessuna interferenza, qua sotto vediamo che c'è soltanto terreno e il drone non è proprio fluido, cioè lo streaming prima andava meglio e adesso va a questa maniera qua. Riprovo, alzo, abbasso, vediamo un po', sono arrivato qui in prossimità di questa panchina, guardate quanti frizz che ci sono, avevo messo lo zoom digitale, 3x, provo anche a ruotarlo, un altro frizz, e beh, non è il massimo, non è il massimo. Riprovo a ripuntare sulla panchina, vediamo un po'. Faccio partire la registrazione video, qua mi avvicino un po', guardate, continuano i lag, vedete, continuano, continuano durante tutto il volo. Ora, se io avevo un dispositivo Android sicuramente avrei, avrei, beh, formattato, cioè cancellato l'applicazione, cancellato tutto quello che aveva scritto l'applicazione nel dispositivo e mi sarei magari reinstallato quella precedente, ma avendo un dispositivo iOS o un iPhone 13, sono costretto ad aspettare un nuovo aggiornamento che spero ci sia presto, perché così non posso volare. Sinceramente, beh, una bella delusione questa. Non me l'aspettavo, cioè, speravo che il problema era un problema circoscritto a quel momento, a quel volo che avevo fatto in montagna, era piovuto, però invece il problema persiste. Ma non solo a me, ma ho sentito anche altri amici e mi hanno detto, mi hanno confermato appunto questa problematica di questa applicazione che non va bene. L'applicazione è questa qua, che vedete, l'ultima che è stata rilasciata da DJI e quindi non ci resta che aspettare aggiornamenti, ma sicuramente ce ne saranno perché uscirà il nuovo drone Neo in settimana e quindi un giorno prima o qualche ora prima faranno sicuramente l'aggiornamento dell'applicazione. Un'applicazione che deve gestire un sacco di droni, sarà questo il problema? Cosa ne pensate? Ve lo fanno anche a voi? Beh, scrivetemelo qua sotto in un commento e ne parliamo insieme. Ci vediamo in settimana con il nuovo DJI Neo tra le mie mani, almeno così spero. E una buona domenica a tutti, alla prossima, ciao!